Un'altra segnalazione di incuria e degrado nella città di Fano ci porta in un posto che abitualmente ma maggiormente nel periodo estivo è utilizzato da turisti e bagnanti. È il sottopasso di via delle brecce con tanto di passaggio pedonale protetto da balaustre in metallo. E sono giuste appunto queste protezioni che hanno dettato l'allarme dei passanti. La continua esposizione agli agenti atmosferici ma essenzialmente all'azione aggressiva della salsedine ha ridotto questi tubolari in ferro ad un ammasso di ruggine. Non è tanto l'aspetto estetico a creare apprensione decisamente poco edificante certo quanto due pericolosissimi monconi in metallo arrugginito ed appuntito dovuti alla rottura di netto di una delle balaustre fortemente corrosa dalla ruggine che rappresentano un serio rischio di infezione o di gravi lesioni ad un pedone o un ciclista che inavvertitamente o accidentalmente dovessero finirci sopra. Ma ormai tutti i tubolari metallici della protezione, anche quelli che sono ancora in piedi, sono divorati dalla ruggine e ridotti ormai a delle sfoglie di metallo pronti a cadere sotto il minimo peso che li dovesse sollecitare. Gli utilizzatori del sottopasso che ci hanno contattato chiedono almeno a chi di competenza che in primis, prima ancora dell'estetica, sia la sicurezza ad essere ripristinata. E questo al più presto, essendo il posto fortemente frequentato spesso da bambini e famiglie che lo utilizzano per recarsi in spiaggia.